Bella ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video, mattutino, esagerato quest'oggi perché sto effettuando l'accesso e mi recherò subitissimo all'interno dell'armadietto, dato che troveremo delle nuovissime skin in early access. Vi chiedo semplicemente un pollicione all'insù e un'iscrizione, se ancora non siete iscritti belli miei distruggetelo questo tastino rosso qua giù, disintegratelo, la notifica sulla sezione armadietto ce l'abbiamo, purtroppo il punto esclamativo è stato mandato via ragazzi miei, vi ricordo che se avete bisogno di un po' di XP per livellare il vostro pass battaglia potete giocare tranquillamente la mia mappa, primo codice qua sotto in descrizione, DOG Red vs Blue. A breve rilasceremo l'update di Natale e sarà meravigliosa. Clicchiamo sulle skin, ordina e filtra, vi comunico che tutto ciò che vedrete tra qualche secondino mi è stato inviato da parte di Epic Games. Essendo un content creator ed Epic Partner soprattutto, ricevo molto spesso queste skin in anticipo da parte loro così da mostrarvele qui sul canale. Inutile evidenziare tutto ciò ma nel momento in cui vi ritroverete nell'item shop ogni singola skin che stiamo per vedere, codigo Martex all'infinito. Ma all'infinito per davvero ragazzi, distruggete questo cod nel negozio oggetti. Un grazie infinito a tutti quanti voi belli miei. Le skin teoricamente dovrebbero uscire domani anche perché mi hanno dato ben 24 ore di early access, quindi godiamo. Ce le clicchiamo qui su recenti e ne abbiamo, ragazzi, applichiamo. Vai! Oh! Let's go! Cinque skin! Ma what? Mega premessa perché qui ci vuole un disclaimer gigante, grande quanto questo video. Io ho guardato una sola cosa appartenente alle tartarughe ninja, quindi non me ne vogliate. Perché ogni singola volta che tratto contenuti legati a serie tv, film, cartoni e quant'altro, ci sta sempre qualche esperto lì tra di voi che mi va a puntualizzare qualcosina. Ci sta, eh, tranquillissimi, benvenga. Però io sono innamorato del primissimo film delle tartarughe ninja, risalente al 1990 se non erro. E da quel che vedo manca una skin molto, e dico molto, importante. Perché qui potevano implementarmi il maestro Splinter. Invece da queste piccolissime preview vedo solamente Donatello, Raffaello, Michelangelo e Leonardo, più un altro personaggio femminile. E questa, raga, questa non la conosco. Vado a cliccare subito su di lei. Chi è? April O'Neil. Reporter investigativa sul campo per canale 6. Fa parte del set TMNT. Acronimo che dovrebbe stare per Teen Mutant Ninja Turtle. Corretto, raga. Ma lei non ha stili modificabili. Non possiamo farci nulla. Ok. Non so come verranno presentate queste skin all'interno del negozio oggetti. Sicuramente ci saranno dei bundle, assolutamente. Skin singole, ovviamente, e potrebbero costare 1500 V-Bucks cada uno. Procediamo, poi qua sotto tra i commenti ditemi qual è la vostra skin preferita. Partiamo da Leonardo. Il capogruppo, ragazzi. Mamma mia, è enorme. No, è troppo bello, troppo, troppo bello, ragazzi. Ho delle scene impresse in mente che, mamma mia, il pizzaiolo che porta lì le pizzadini su film. Tante di quelle mazzate. Ricordo un antagonista particolare di quei tempi e si chiamava Shredder. Avevo davvero tanta, tanta paura al riguardo. Mamma mia, che bella, comunque. Da piccolo possedevo delle mini action figure riguardanti le tartaruga ninja e mi ricordo che andavo a slacciare sempre queste cinghie poste sul guscio. Esperto di tecnologie, genio dei motori, imbattibile con il bastone. Boh, no, però qui la descrizione è bellissima, ragazzi. Su Leonardo, infatti, abbiamo leader della squadra, imbattibile con la katana. Ok, lui non ha stili modificabili. Attenzione! Qui deduco che Donatelli, invece, abbia due stili, ma semplicemente con senza cuffie sarà. Oddio. Perché Hamilton? Perché Hamilton? Cosa c'entra Hamilton? Perché? Ma che cosa? Dai, mi fate vedere come si va a modificare questa skin? Ecco, sì. Grazie Hamilton, grazie. È sempre presente qui tra di noi. Con o senza cuffie? Beh, la mega pelata molto meglio. Alla funzione di tamburello, non peraltro. Quindi andiamo sul Raffaello. Bellissimo. I muscoli del gruppo qui, sempre pronta a combattere, imbattibile con i Sai. Dai, ma guardate che animazioni che ci stanno. Mi piacciono un sacco queste nuove pose nel momento in cui il nostro personaggio rimane un pochettino AFK. È molto più movimentata la cosa. Concludiamo con Michelangelo, super skater, anima della festa, imbattibile con i Nunchaku. Ragazzi, lui ha un colorito totalmente differente. Guardalo come se la swinga. Dai, che figata. Abbiamo dei backpack? Non ne ho idea. Qui sinceramente non lo so. Vediamo. Permetta a Donatello un facile accesso alla propria arma. Oddio, raga. Non ditemi che abbiamo pure i picconi. Aspetta, aspetta, aspetta. Eh, sì, mi sa che qui ne vedremo delle belle con i picconi. Guardate, li abbiamo tutti. Aspetta, mezzo guscio eroico. Fighissimo questo. Oh, sì. Stile Michelangelo, Donatello, Raffaello, Leonardo con tutti gli spray. Eh, ma spero, gli spray però non li vado ad adattare. I backpack non finiscono qui perché abbiamo anche la cinepresa del canale 6. Bellissima. Adesso sono curioso però, beh, sono curioso. Non so se abbiamo delle emot, ma non credo. Recenti. Sì. Microfono ad asta. Ragazzi, aspettate, aspettate, aspettate. Dai, fai swingare un pochettino. Peccato che non me li faccia provare dalla nuova preview dell'armadietto. Mannaggia a loro. Questi invece... Oh, grazie. Grazie, almeno questo. Grazie mille. Di nuovo. Ma ragazzi, avete visto che movement? Vediamo lui. Sì, bellissimo, raga. Ci sta. Mamma mia. No, raga. Ogni piccone ovviamente viene associato dalla propria skin. Questi invece non l'avevamo visto. Il nunchiago enorme. Bellissimi. Questi sono bellissimissimi davvero, raga. Molto probabilmente ve lo starete chiedendo. Sì, possiamo utilizzarli anche nella versione Lego. Non abbiamo emot, purtroppo, appartenenti a tutto ciò che state vedendo. Però non è detto, attenzione, che potrebbe esserci qualcosa all'interno del negozio e getti nel momento in cui usciranno. Guardate un po' qui come si presenta la skin, ragazzi. È bellissima. Cambiamola un attimino. Vi faccio vedere anche le altre. Magari anche con la lobby originale. Belle, belle, belle. Davvero, ragazzi, carinissime. Scendiamo e selezioniamo il battaglia reale, stavo dicendo, ed eccumela qui. No, raga. Tutto troppo bello. Aspetta. Ci sta, ci sta, ci sta. Mamma mia. Allora, io avrei dedicato a loro, vi dico la verità, qualche imotto, anche con i picconi stessi qui. Non capisco perché non funzioni però sto backpack. Dannazione, raga. Non funziona, è buggato. Allora, o va utilizzato con qualche altra skin, deduco che sia così, è così, raga. Ed infatti va bene. Aspetta, aspetta. No, 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 no. Voglio settarlo bene. Ovviamente io ho molti più spray, però non lo so, raga. Mi sa che possiamo utilizzare solamente questi qua. Oddio, li fa utilizzare tutti invece. Oh mio Dio. Lo modifichiamo. Ok. Ragazzi, che sciccheria questo set. Quindi questo backpack può essere utilizzato, come già detto, con altre skin, ovviamente. E non quelle skin originali delle Ninja Turtles. Anche perché loro hanno già il mega gusche, quindi no. No, non si può fare. I picconi fortunatamente possono essere utilizzati anche su altre skin. Benissimo. Ve li faccio vedere velocemente su questa della stagione 4, capitolo 1. Dove stanno? Raga, a me il movement fa impazzire. Ma è troppo bello. Dai. Andiamo un attimino in game. Ragazzi, vediamo quello di Donatello. Vai così. Allora, questo movement non mi è mai piaciuto perché è già presente su altre skin. Oddio, su altri picconi, perdonatemi. Quindi, no. Non mi fa impazzire, ma nel momento in cui lo prende, raga. Aspettate, facciamo così. Mamma mia! È troppo bello. Guardate Leonardo con il doppio piccone. Quanto è aggressivo. Il crouching, anche lui. Spettacolo. Raga, vai così. Picconiamo. Vabbè. Allora, io non sono un amante del doppio piccone in game. Devo vedere anche gli altri, eh. Devo assolutamente vedere come si presentano le altre skin nozze e gli altri picconi. Bello. Ci sta. Cambiamo subito skin. Abbiamo controllato in maniera corretta Leonardo e Donatello. Adesso abbiamo Michelangelo con i suoi nunchaku. Ma qui non li posso testare. Già questo mi piace molto di più, ragazzi. Questo è carinissimo come movement. Mi piace. Aspetta. Se dovessimo picconare sarebbe tipo così. Bello. Potrebbe essere il piccone che andrei ad utilizzare. Nel mentre expiamo. Ci sta. Concludiamo con Raffaello. Delle tartarughe ninja. Guardate. Allora. Oh. Sì. Niente male sto swing, raga. Sembra lento. Però il movement tra una spada e l'altra è bellissimo. Comunque è una tipologia di piccone che ho già visto su altre skin. Se non erro è appartenente anche ad un'altra skin con una maschera rossa. Non mi ricordo il nome. Era quella che utilizzava un sacco di tempo fa. Cypher PK. Sì, 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 raga. Somiglia un sacco lei. Almeno le spade. Gli spadini che utilizzava. Ultima skin. Devo dire che il piccone è esageratamente grande. Ma è giusto che sia così. Come vuoi che sia un microphone del genere. Martex. Anche se non conosco il personaggio, in questione potrebbe essere una delle skin più utilizzate del set. Almeno da parte mia. Si presenta davvero bene, ragazzi. Assolutamente sì. Ragazzi, promossa. Mi piace. Bella. Sembra una di quelle skin da starter pack. Ma lei quando è stata introdotta, scusate, chiedo ai più esperti che staranno guardando questo video. Ma è appartenente forse alla serie tv dei cartoni? Comunque le mie preferite rimangono Leonardo, Donatello, Michelangelo e Raffaello. Quelle sono bellissime, raga. Io spero ovviamente che il video odierno sia stato di vostro gradimento. Nel momento in cui usciranno queste skin, come già detto ed inizio video, distruggete lo shop giornaliero utilizzando il codico Martex. Taggatemi anche su Instagram tramite Martex TV se volete che vada a ripostare delle storie in cui shoppate. Ragazzi, un grazie infinite a tutti coloro che sosterranno il canale con gli acquisti. Noi ci becchiamo in un prossimo video mattutino sempre qui alle 7 oppure in live alle 14 oppure ancora sempre alle 14 con gli shorts giornalieri. A prestissimo, un salutone da Martexone e come sempre un bel... Ciao, brothers! Ciao! Ciao!